Con la disinfestazione attuata dall'amministrazione comunale non sono finiti gli interventi per la lotta contro la zanzara tigre che è il veicolo di trasmissione per la dengue, questa influenza terribile insieme alle condizioni climatiche che ne hanno facilitato la diffusione. Abbiamo chiesto al sindaco questa mattina che ha tenuto una conferenza insieme ai tecnici come la situazione. Noi abbiamo iniziato un'azione larvicida dopo quella autulticida ed è fondamentale che anche i cittadini nelle proprie abitazioni private ci aiutino con le azioni all'interno delle proprie abitazioni. Abbiamo voluto fare il punto stampa insieme all'Ast di Pesururbino, all'istituto zooprofilattico e a Aset perché questo gruppo di lavoro che va avanti da settimane sta tenendo sotto controllo la situazione e in maniera chiara stiamo comunicando senza creare allarmismi alla popolazione quello che è stato fatto e quello che stiamo facendo. E questo è il metodo che dovremo fare oggi e che mi auguro anche dal prossimo anno riusciremo a fare da marzo in poi con un'azione capillare in tutta la città. Dove si possono reperire le informazioni affinché la popolazione fanese sia continuamente aggiornata. Come Comune di Fano ci avvaliamo del supporto dell'istituto zooprofilattico e soprattutto dell'azienda sanitaria territoriale l'Ast di Pesururbino che pubblicherà sul proprio sito le facche quindi tutte le domande e risposte e anche noi rigireremo tutte le domande e risposte con una comunicazione lineare e identica per tutti gli enti che comunque sono stati coinvolti. Non solo l'amministrazione comunale ma è importante anche la collaborazione dei cittadini perché la maggior parte del territorio comunale è un territorio privato. Circa il 70% sono aree private quindi è fondamentale che i cittadini nella parte di loro competenza quindi all'interno dei propri giardini, dei terreni ci diano manforte e quindi facciano quelle azioni che possono debellare completamente la zanzara tigre fin quando non arrivano le temperature fredde e quindi poi la natura fa il suo corso. Dottor Liverani com'è la situazione? Stanno aumentando i casi conclamati di dengue? Non è che i casi aumentano, sono aumentati rispetto a ieri soltanto perché ci sono pervenuti i risultati di campioni biologici che avevamo inviato il 15 settembre all'Istituto Superiore Sanità quindi sono pervenuti questi risultati ma si riferiscono a casi che noi già precedentemente avevamo considerato come possibili. Ma a questo proposito incide la zona con le sue caratteristiche ambientali? Beh la zona è abbastanza caratteristica per lo sviluppo di Aedes albopictus, queste villette private con molto verde ben curate, molte raccolte d'acqua in sottovasi rappresentano un abitato ideale per le zanzare. Con la disinfestazione non sono finiti gli interventi per cercare di limitare la diffusione della zanzara tigre, si fanno ulteriori azioni, una di queste parlano di trappole, trappole per così verificare la presenza delle larve nel nostro territorio? Sì, la presenza delle larve, la presenza degli adulti e anche verificare la presenza del virus negli insetti. Non abbiamo dati spendibili in questo momento perché è iniziata da praticamente due settimane, alla fine del maltempo abbiamo iniziato a fare questi monitoraggi però sono dei monitoraggi che servono anche per orientare le disinfestazioni laddove il rischio è maggiore, quindi è un monitoraggio che serve esattamente per dare un po' la cronologia degli interventi al comune di Fano. Cosa consistono queste trappole? Ne abbiamo di diversi tipi, sono delle trappole che servono per monitorare l'abbondanza della popolazione e sfruttano un dato indiretto, c'è la quantità di uova deposte in piccoli focolai larvali messi ad hoc, in altri casi si catturano zanzare che sono in deposizione delle uova o in altri alla ricerca del pasto di sangue che gli serve per deporre le uova, quindi catturano le zanzare in momenti differenti perché in momenti differenti ci dicono in quale situazione siamo dal punto di vista del rischio infettivo. Ma la battaglia contro la zanzara tigre è una battaglia che si può vincere? Assolutamente sì, questa è una battaglia che parte da aprile-maggio che sono i momenti in cui la popolazione comincia a crescere. Poi noi ci accorgiamo del fazio della zanzara qualche mese più tardi, ma la lotta alle zanzare inizia molto prima e non inizia assolutamente attraverso la disinfestazione, ma attraverso la riduzione dei punti di moltiplicazione che sono per la grandissima parte in ambito privato. Perché tanti casi di dengue si sono verificati al vallato? Quel quartiere lì ha una conformazione che può essere considerata tropicale in determinati momenti dell'anno. è ombreggiato, è innaffiato e quindi c'è un'alta umidità, lì la zanzara tigre trova esattamente le stesse condizioni che trova nelle foreste di bambù del sud-est asiatico da dove origina, nei nostri giardini. Non è il lago, non è il fiume, è il nostro giardino che moltiplica le zanzare. E quindi dobbiamo intervenire lì, localmente, già all'inizio della buona stagione. Non la estirperemo perché sta conquistando il mondo e tutti i continenti sono già invasi alla zanzara tigre. Si tratta di ridurre la popolazione, perché questo significa anche ridurre il rischio di trasmissione dei virus. Alla conferenza stampa di questa mattina è intervenuto anche il presidente di ASET, Giacomo Mattioli. Sono state annunciate due linee di intervento, una a lungo termine, l'altra a un termine più precoce. Ebbene, da marzo in poi verranno così disinfestate tutte le zone di verde pubblico. A breve termine, invece, collaboreranno le farmacie che dipendono dall'ASET, quelle comunali, che sono quelle della stazione, quella di Fano Center e quella di Gimarra. Ebbene, quei cittadini potranno trovare dei kit a prezzi calmierati. Il prezzo è 15 euro invece di 25, contenenti una confezione di pasticche per così combattere le larve, poi spray repellenti per adulti e per bambini, disinfettante post-punture. 200 confezioni sono state così consegnate ad ogni farmacia, ne saranno 800 in distribuzione in tutto il territorio. Quindi i cittadini sono coinvolti, sono invitati a fornirsi di questo kit che può aiutare appunto contro la lotta alla zanzara.